Smettila di spiegare le cose, smettila di ragionare sulle cose e men che mai ragionare sui problemi, di cronicizzi. Il pensiero non è fatto per indagare le cose della psiche, smetti di pensare al passato, smetti di pensare ai traumi, anzi vi insegno un esercizio. Ogni volta che vi viene in mente il trauma che vi ha colpito, un abbandono, un afferito, un difetto fisico, qualcosa che è successo, tu immaginati la cosa che non ti piace di te da un lato e mettila in un lato della tua mente e nell'altro lato incomincia a immaginare un panorama che ti piace, un fiore che ti attrae, un animale per cui senti un'affinità, senza saperlo ti stai collegando ai tuoi lati primordiali, antichi. Sono loro che ci proteggono, sono loro che ci curano. Perché qualsiasi cosa ci è accaduta, è accaduta e soprattutto è reale perché continuiamo a tenerli in vita quei pensieri, altrimenti svanirebbe come l'onda del mare, che se ne va. Lei ci indiceva che un'onda non è uguale all'altra, l'evento è il mare, sei seduto sul tuo mare, le cose si mettono a posto da sole.